Vi parlo di osteoporosi. Osteoporosi è una patologia che colpisce soprattutto la donna e colpisce soprattutto la donna dopo la menopausa. Una patologia assolutamente curabile, oggi curabile molto facilmente, ma anche prevenibile molto facilmente. La prevenzione delle osteoporosi è semplice in quanto si produce attraverso stili di vita, stili di alimentazione, movimento, ginnastica e attraverso una diagnosi che deve essere una diagnosi precoce. Una delle prevenzioni è fare la diagnosi. La diagnosi è molto semplice, qualsiasi medico vi può consigliare come fare la diagnosi. Il trattamento oggi è un trattamento molto semplice, qualsiasi internista, ortopedico, reumatologo possono consigliare un trattamento efficace. Una patologia vinta, diciamo che è una patologia che se ben diagnosticata o prevenuta e se è ben curata è una patologia assolutamente oggi che non ci preoccupa più. L'osteoporosi non curata invece può dare tantissime problematiche, dal rischio di frattura enormemente aumentato a patologie anche dolorose e patologie addirittura alla lunga invalidanti. Attraverso Onda abbiamo voluto, nell'Istituto Ortopedico Caetano Pini, che dal 1884 cura le ossa dei milanesi, dei lombardi e di tutta Italia, abbiamo voluto fare un Open Day nel quale saranno disponibili specialisti, ortopedici, reumatologi di medicina interna che potranno dare consigli, visite, ragguagli su questo tipo di patologia. E allora tutti quanti il giorno 20 di ottobre al Gaetano Pini per accertare e parlare di osteoporosi.